quanta roba ragazzi che bagniamo e poi qua stanno facendo il ripasso ancora ragazzi chissà volevo capire che ho qualche messaggio così poi iniziamo a ballare un pochino più seriamente cosa abbiamo qua? chi è che vuole del risotto? allora abbiamo due messaggi per il numero 104 ragazzi è un nuovo anche questa volta numero 104 Michela me lo chiedi un secondo che devo cercare una cosa in borsa chi è il 104 ragazzi? o c'è il 140? i numeri ci sono ma si è dimenticato eccolo qua ragazzi ciao come ti chiami? Luca si chiama Luca da dove vieni Luca? Luca da Luca ok cosa fai di bello della vita? lavoro nel campo negli amanti hai dei campioni in macchina? arriva avanti no? però ragazzi qui il nuovo ricco mi ci fico ascolta come vorresti una buona idea? una donna motociclista se devi finire sai non lo mangio solo quando ho bisogno te lo porti per toccare una donna che vada sul mare magari cosa basta dai? sarà un'ottata, 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 un'estero va bene è andata allora e quindi io ti consiglio questi due messaggi speriamo che provi la donna motociclista ragazzi c'è qualcuno di voi che va in moto? sì ma tu sei un uomo o no? c'è una donna che va in moto qua lei